Conosci te stesso? Quante volte ti hanno detto questa frase? Ma quando l'hai sentita, tu hai capito che vali? Hai capito che tu sei un tesoro? Se non l'hai capito te ne parlo in questo video, permettimi. Tu sei prezioso, lo sai? Conosci il tuo valore? Sei consapevole delle potenzialità che possiedi? Voglio insegnarti un semplice e potente esercizio per farti capire che sei davvero prezioso, davvero speciale. Fai così. Elenca le tue qualità, le tue abilità, gli interessi, i punti di forza, tutte le cose che tu sai fare, non soltanto i titoli di studio, non soltanto le cose grandi, anche certe piccole capacità, come fare lavori domestici, come guidare, come camminare, come assistere con pazienza. Sono tutte qualità, sono tutti punti di forza, quindi fai un bel elenco, mettiti l'impegno, vedrai, ci sono decine e decine di cose belle e utili che tu sai fare. Dopo che hai elencato le tue qualità, passa alla seconda fase. Chiedi ai tuoi parenti, ai tuoi amici quali sono le tue doti migliori, secondo loro, e aggiungile all'elenco. Ti sorprenderai perché gli altri, dall'esterno, vedono tanti punti di forza che tu nemmeno sospetti di avere, ma quando te li dicono ti renderai conto che è così, hanno ragione loro, quindi il tuo elenco di cose belle che indicano il tuo valore si allunga. La terza parte dell'esercizio è questa. Rileggi spesso quell'elenco e ogni volta domandati come puoi investire le tue qualità, quei tuoi punti di forza, quelle tue capacità che tu hai riconosciuto, che gli altri ti riconoscono, come possono venire investite, cosa puoi fare di più grazie a quelle tue qualità. E infine, ultima parte dell'esercizio, perfeziona la tua comprensione. Esatto, stiamo parlando della comprensione, del ragionare. Impara parole nuove e usale. Perché? Stiamo parlando di qualità, stiamo parlando di parole. Stiamo avendo a che fare con le parole, con il linguaggio. La tua essenza di essere umano, in questo esercizio, in questo video, viene comunicata per mezzo delle parole. E allora diventa fondamentale, per conoscere te stesso, conoscere lo strumento che usi per conoscere, ossia il linguaggio. È molto importante, per la qualità della tua vita, che tu impari parole nuove, parole appropriate e che le usi bene. Studia l'etimologia, cioè l'origine delle parole. Le parole che usiamo adesso derivano da parole antiche, hanno delle radici e quelle radici esprimono dei significati, delle sfumature, che ti conviene conoscere. Parla usando termini precisi, non accontentarti del gergo, non accontentarti delle frasi dette a metà, confidando sul fatto che il tuo ascoltatore capisce. Il linguaggio è lo strumento che ti permette di conoscerti. La tua essenza di essere umano, qui, nella tua esperienza terrestre, viene tradotta per mezzo del linguaggio. Ecco perché è così importante conoscere il linguaggio. Rendi evidenti le tue qualità per mezzo di pensieri articolati. Quando tu ragioni tra te e te, quando ipotizzi il futuro, se hai un vocabolario di duemila parole, o di quattromila, o di ottomila, o di sedicimila, cambiano i pensieri che produci. Con un vocabolario ricco, conoscendo le sfumature, conoscendo che cosa significa ogni singola parola, tu arrivi a cogliere delle profondità di significato che altrimenti sfuggono. E allora, per conoscere te stesso e per valorizzare il tesoro che tu sei, scrivi un elenco delle tue qualità, allunga l'elenco per mezzo delle considerazioni positive che fanno le persone che ti conoscono. Rileggi spesso quell'elenco, domandati come puoi investire le tue qualità, ma soprattutto capisci che questo esercizio si basa sul linguaggio, che stai traducendo la tua essenza, la tua avventura nel cosmo, la stai traducendo in un linguaggio terrestre, quindi stai usando delle parole, le parole sono strumenti che ti esprimono. Per conoscere te stesso, per valorizzare pienamente quell'elenco che hai scritto, devi capire le parole, impara parole nuove, usale, studia l'etimologia, cioè la storia delle parole, tiene un dizionario sul tuo tavolo, consultalo spesso. Quando non sei perfettamente sicuro di un significato, cerchi quel significato. E anche quando ti sembra di conoscere una parola, vai a cercare il significato. Che cos'è il bianco? Che cos'è il buono? Che cos'è il vero? Quale definizione sapresti dare? Parla usando termini precisi, rendi evidenti le tue qualità per mezzo di pensieri articolati. Le parole che usi sono la struttura che permette alla tua essenza di esprimersi in termini comprensibili durante la tua permanenza sulla terra. Quindi conosci bene lo strumento del linguaggio, perché il linguaggio ti permette di conoscerti, di pensare meglio, di esprimerti meglio e di realizzarti meglio. Ascolta diverse volte questo video se non avevi mai colto la potenza del linguaggio, perché tutto ciò che ti ho detto in questo video ti aiuta ad esprimere il tesoro che tu sei. Grazie.